I Marvel Studios hanno confermato ufficialmente che Professor X di X-Men sarà presente in Doctor Strange nel multiverso della follia, il nuovo film della Marvel Cinematic Universe che uscirà nel 2022. Ma a cosa c'entra Professor X con la trama di Doctor Strange e del Marvel Cinematic Universe? E soprattutto può essere questa la chiave per far entrare finalmente il mondo degli X-Men nella trama di ciò che abbiamo visto finora nei film della Marvel? Scopriamolo in questo video. Patrick Stewart, come detto, è stato ufficialmente confermato per interpretare Professor X nel nuovo film di Doctor Strange nel multiverso della follia. Da quando i Marvel Studios hanno rivendicato i diritti sui personaggi degli X-Men, i fan si sono chiesti da quel momento da quando veramente ci sarebbe stata questa svolta, da quando gli X-Men sarebbero potuti entrare finalmente nel grande schermo in questo ciclo di film che è partito già da quasi 15 anni. Per tutto questo tempo Kevin Feige e tutto il suo team è rimasto muto al riguardo, dando qualche indizio ogni tanto qua e là. Tuttavia, grazie al gigantesco hype che si nasconde dietro a Doctor Strange 2 e anche ai possibili leak che sarebbero potuti uscire, che appunto si attanagliavano nella possibile trama del Doctor Strange 2 nel multiverso della follia, secondo la quale in questo film, che come già detto uscirà nel 2022, ci sarebbero potuti essere degli importantissimi cameo di una sfilza gigantesca di attori importantissimi del passato, di personaggi importantissimi del passato, ma soprattutto anche del futuro, quindi l'introduzione di personaggi innovativi, nuovi, che potranno essere introdotti finalmente in questo universo. Anzi, in questo multiverso. A seguito di un cambio alla regia che ha portato Sam Raimi, ovvero la regista dei vecchi Spider-Man, a subentrare per l'ideazione e la realizzazione del film di Doctor Strange 2 nel multiverso della follia, la produzione di questo film è progradita tranquillamente, con calma, ma filando in modo liscio come l'olio, diventando davvero uno dei film più attesi della storia del Marvel Cinematic Universe. Nel trailer del film, tra le varie riprese che ci vengono mostrate, il Marvel Studios hanno deciso di farci vedere una piccola anticipazione di quello che sarebbe stato il film, al termine, come fanno sempre, dopo i titoli di coda del film Spider-Man No Way Home, dove appare anche Doctor Strange. Nonostante il fatto che, logicamente, i dettagli precisi, completi, perfetti di quella che sarà la trama, sono nascosti, sarà una sorpresa quando ci guarderemo il film, erano trapelate davvero tante informazioni su ciò che sarebbe potuto accadere. La natura del multiverso ha portato chiaramente a pensare che tutti, a partire da Tom Cruise a John Karansysky e passando per Reed Richards, sarebbero stati in Doctor Strange 2. Ora, grazie al trailer che ci è stato rivelato pochissimi giorni fa, sappiamo che almeno uno di questi è ufficialmente confermato. Infatti, durante la 56esima edizione del Super Bowl è stato rilasciato il trailer di Doctor Strange nel multiverso della follia. La clip che ci è stata rivelata in questa occasione è ricchissima di informazioni che ci possono far divagare già con la testa e pensare, teorizzare cosa potrà accadere nel prossimo film. Ma probabilmente la sua rivelazione più entusiasmante di tutte è la conferma che Patrick Stewart è tornato nei panni di Charles Xavier. Nel trailer, Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch, viene processato con il leader dei mutanti che sembra ricoprire il ruolo di leader dell'organo governativo. Sono già passati diversi anni da quando Patrick Stewart aveva abbandonato il suo ruolo, nei film della Marvel, nel film di Logan. Nonostante l'interesse nel rivederlo nei panni del Professor X, soprattutto dopo che i Marvel Studios hanno rivendicato i diritti del personaggio per gli X-Men, era fermamente convinto di non essere più interessato a riapparire nei film. Ma non perché non amasse il suo ruolo e il suo personaggio, ma perché il suo ritiro nel film del 2017, Logan, fu davvero ben fatto, sensato, logico, costruito bene. Tuttavia non ha nascosto di aver avuto delle conversazioni con Kevin Feige e il suo team sul futuro del Professor X nell'universo della Marvel Cinematic Universe. Anche se il trailer, nel piccolo spezzone in cui appare, non fornisce un contesto veritiero assoluto che ci faccia capire in che modo sarà presente nel film, in che modo il Professor X potrà essere partecipe nella vicenda che si svolgerà nel prossimo film di Doctor Strange, è lecito pensare che la Marvel e i Marvel Studios si stanno già attrezzando per introdurci nei futuri film gli Illuminati della Marvel Cinematic Universe. Non stiamo parlando dei massoni o di quello che è, ma si parla degli Illuminati, ovvero un gruppo di eroi presenti nei fumetti della Marvel composto da personaggi apparentemente presi qua e là. Infatti, oltre a Charles Xavier, oltre al Professor X, in questo gruppo chiamato gli Illuminati, ci sono ovviamente anche Doctor Strange, guarda caso, Mr. Fantastic dei Fantastici 4, Freccia Nera, Namor e infine Iron Man. Che possa quindi ritornare finalmente Robert Downey Jr. in un film della Marvel, oppure che Iron Man, trattandosi del film di un universo parallelo del multiverso, possa farci vedere, possa mostrarci un nuovo Iron Man interpretato da un nuovo attore. Personalmente spero di no, visto l'attaccamento che avevo verso Iron Man, interpretato da Robert Downey Jr., il vero Tony Stark. Comunque, fatto sta che oltre a questi ritorni che potrebbero sembrare scontati per alcuni, eclatanti per altri, gli X-Men, forse grazie al collegamento del Professor X, potranno apparire finalmente nel Marvel Cinematic Universe e la conferma è ufficiale. Voi, siete contenti di questa notizia? Volete sapere altro su Doctor Strange e sul multiverso della follia sugli altri film della Marvel che usciranno prossimamente? Se sì, scrivetemelo nei commenti perché porterò altri video sulla Marvel Cinematic Universe e ovviamente per il momento anche sulle teorie possibili di Doctor Strange. Quindi se ancora non l'avete fatto vi invito a iscrivervi al canale per non perdervene neanche uno. Per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!